Buongiorno, benvenuti a questo incontro e riporto il saluto di Pordenone Legge a chi è qui presente, a chi ci vede in collegamento online. Questo bellissimo libro uscito per Rabon Piani, La pietra oscura, è per noi una grande occasione, un grande privilegio di avere a Pordenone Legge Marco Bagliani e lo invito sul palco. Grazie, grazie davvero di essere qui. È un libro davvero molto bello, molto prezioso, soprattutto per i giovani, quelli che magari in questo momento ci stanno seguendo anche da scuola. Grazie, grazie Marco Bagliani. Comincio leggendovi un pezzo e poi dopo chiacchiero un po', sperando nelle domande del numeroso pubblico. Allora, sì, così va bene? Quando decidono di inventare una mappa per un nuovo gioco, la regola per quel giorno è non avere né Mac né PC né cellulari, niente, neanche un quaderno per gli appunti. Devono solo ricordarsi ciò che ognuno dice a voce. Hanno scoperto che così arrivano più idee. Sono arrivati alla grotta un po' per volta, Inco per primo e Stampa per ultimo. Gemma indica Inco ad Agostino. Guarda com'è contento. Se fosse per lui qui ci starebbe giorno e notte, più che a casa sua. Agua abbassa la voce. Io ci sono stato a casa di Inco, uno dei primi giorni che era entrato nella banda. E allora mi ha aperto la madre, era in vestaglia, fumava. È grossa come Inco. Mi ha fatto entrare senza una parola, ha gridato forte, Giula offri qualcosa a tuo amico. Ha schiacciato a terra la sigaretta e ne ha presa subito un'altra dal pacchetto. Poi se n'è andata nell'altra stanza dove si sentiva un televisore acceso. Dalla porta lasciata aperta ho visto che si è buttata sul letto. E Inco che ha fatto? Mi ha portato in cucina, c'era una pila di piatti sporchi, cicche, ovunque. Ha aperto il frigo per prendere una coca da offrirmi ma poi non trovava i bicchieri in tutto quel casino. Il frigo era pieno zeppo di cibi confezionati. E il padre? Non lo so, mi sa che ci sta poco a casa. Sono riuscito a capire da Inco che va in giro nei mercati a vendere vecchi vestiti. Inco non vedeva l'ora di andare via da lì. Quando siamo usciti ha detto qualcosa alla madre. Ha dovuto gridare per via della televisione accesa ma lei manco gli ha risposto. Il sole sta cominciando a scivolare dietro le montagne che circondano il lago. È arrivato il momento giusto per sentire da Ulisse qual è l'idea per il nuovo gioco. Ulisse parte subito in quarta, infervorato. Mentre parla si accorge che ci sono ancora un sacco di punti vuoti nel racconto. Ma è sempre così. Ci penseranno dopo tutti insieme a riempire i buchi. Quando finisce alla gola riarsa, si versa un bicchiere di coca e aspetta. Come sempre è stampa il primo a intervenire. In pratica stai dicendo che le cose sembrano le stesse ma non sono proprio le stesse, tipo che questa grotta non è solo una grotta. Sì, qualcosa di simile. E ci sarebbe da qualche parte una specie di passaggio che porta in un altro mondo. Agos scuote la testa, si sforza di capire come potrebbe essere ma non se lo figura per niente. Ma è difficile. Inco si è appoggiato con la schiena alla parete, abbandonandosi totalmente al tepore della roccia. Gli piace sentire i suoi amici che discutono mentre lui afferra una parola sì e dieci no. Tanto poi glielo spiegheranno loro. Di nuovo. L'unica cosa quasi certa è che stavolta lo faranno esploratore. Gemma invece è entusiasta. Mi piace. Noi siamo gli stessi che siamo ora ma poi diventiamo anche altro. Magari come dei doppioni di noi stessi. Come se ogni cosa ne nascondesse un'altra. Ulisse batte le mani a Gemma. Come in quel film della ragazzina con gli occhi fatti coi bottoni. Coraline. Sì, quello che i genitori avevano un doppio che all'inizio sembravano buoni buoni e poi diventavano tremendi. Ma lì però per entrare in quell'altro mondo bisognava passare per un tunnel nella cucina. Per noi il passaggio è tutto da scoprire. Forse ce n'è più di uno. Inco ha cominciato a tastare con la mano la parete alle sue spalle e così liscia e compatta che sembra fatta apposta per strucciarci si contro. Adesso tocca il soffitto. Le dita si fermano intorno a una piccola asperità proprio a perpendicolo sopra la sua testa. In quel punto la roccia ha una piccola sporgenza quasi invisibile. La sente bene con le dita. Gli sembra quasi che si possa staccare. Infila l'unghia dell'indice e prova a far leva in quel punto. Nessuno degli altri si è accorto di quello che sta facendo. Sono tutti presi dalla discussione sulla proposta di Ulisse. Inco si inarca con la schiena all'indietro per forzare meglio lo spessore appena sollevato. Di colpo il pezzo di roccia viene via. Quasi gli scivola in mano. Inco lo afferra tra il pollice e l'indice. È una pietra che sembra più scura del resto della grotta. Sta per mostrarla agli altri quando un lampo improvviso di luce si sprigiona dalla pietra. Ulisse grida. Gli altri sono schizzati in piedi con gli occhi sbarrati. La luce lampeggia sfarfallando intorno alla mano di Inco. Non si riesce a guardarla tanto è potente. Inco è irrigidito. Continua a tenere tra le dita la pietra lampeggiante. La luce si espande. Sta riempiendo la grotta. Come se si gonfiasse. È una massa densa. Un'ondata di luce che sbatte contro i corpi di Ulisse e di Agoli. Spinge verso l'entrata. Gemma si aggrappa al braccio di stampa. Sono trascinati via dalla massa luminosa. Inco non si vede più. È avvolto dalla luce. Una vampata ancora più potente li catapulta fuori. Tutti insieme aggrappolano. Cadono. Provano a rialzarsi. Inciampano. Non capiscono più niente. Gemma ancora aggrappata al braccio di stampa che sta zoppicando in corsa con una sola stampella. L'altra la raccoglie al volo ago. Ulisse corre verso il sentiero con Inco a fianco che continua a stringere la luce terrorizzato. Mollala. Mollala. Ma Inco non riesce a liberarsi dalla pietra. Sembra che gli si sia attaccata le dita. La luce ora si compatte in un fascio enorme. Punta in basso verso il lago. Illumina giorno il bosco. Sbatte contro gli alberi. Gli scuote come una ventata. All'improvviso si frastaglia. Si divide in tre scie precise. Tre comete di luce che corrono in tre direzioni diverse lungo la costa del lago. Sotto di loro la città è piombata nel buio. Si sentono gli allarmi delle auto, dei negozi. Suonano tutti insieme all'impazzata. Poi le tre scie di luce di colpo si spengono. La pietra non lampeggia più. Scivola via dalle dita di Inco. Cade a terra. Stampa e Gemma hanno raggiunto gli altri. Si ritrova unicino al sentiero. Trafelati. Incapaci di parlare. Gemma con un filo di voce stringe stampa per un braccio. Guardate gli alberi. È come se la luce fosse rimasta appiccicata alle foglie. Ago indica tremante il bosco sotto di loro. Non solo le foglie. Il terreno. I sassi. Ogni cosa sembra bagnata da una ruggiata elettrica che brilla fremente facendo sussultare ogni più piccolo filo d'erba. stampa si tiene in piedi abbrancato a una sola stampella. Gemma è ancora appesa al suo braccio. Vorrebbe non staccarsene più. Ulisse ha avvicinato la mano a coppa all'orecchio. Lo sentite? Che roba è? Sotto i loro piedi c'è un brulicare di vita gigantesco. Una miriade di suoni viventi amplificati. Come se migliaia di piccoli esseri si muovessero frenetici da tutte le parti. Sono stretti l'uno all'altro sul bordo del sentiero. Ulisse è scosso da un tremito. Ma non è di freddo. Che cosa è successo? Nessuno sa rispondere. E neanche io. Bene. No, lo scoprirete dopo leggendo il libro che cos'è che è successo. Grazie, grazie. Allora di solito qui c'è qualcuno che mi fa sempre la domanda. Come mai ha scritto questo libro? Oppure da dove ha preso spunto per scrivere questo libro? Come avete capito i protagonisti? Sono cinque ragazzini, stanno in terza media e è una dell'età che io amo di più. Anche perché me la ricordo bene. Quindi è un'età di passaggio, di trasformazione, di mutamento in cui sentiamo che stiamo abbandonando l'infanzia e questa è l'ultima estate che stanno insieme. La scuola sta per finire. Loro stanno tentando di riagganciare il programma scolastico, quelli che sono cinque un po' borderline, stanno sempre agli ultimi banchi, non amano molto andare a scuola, si annoiano molto di quello che gli insegnanti dicono, preferiscono studiare in altro modo, col piccico, ma soprattutto andando a guardare il lago, la natura, i monti. Sono cinque ragazzi speciali, un po' schizzati anche dagli altri della classe. Speciali non nel senso che sono speciali, allora sono bravi, chissà che sono. No, hanno ciascuno di ancora una sorta di endica. Inco è un ciccione, figlio di immigrati, rumeni o ungheresi, non si sa bene, e sembra scemo. È uno che sta sempre con la testa tra le nuvole, ciccionissimo, è grosso, mangia schifezze tutto il giorno. Poi c'è ago che è magro magro, un mingherlino un po' rachitico. Gemma, che si chiama Germana, la chiamano Gemma perché spunta sempre fuori all'improvviso da tutte le parti, ed è una ragazzina che si veste sempre da maschio, stampa alle stampelle. E Ulisse, che è il raccontatore in qualche modo, come da nome, è figlio di senegalesi, di immigrati. Quindi ognuno di loro ha un po'... E io ho tentato di costruire una storia che gli permettesse per una volta di avere un'avventura in questo periodo di passaggio dalla terza media al dopo. Me la ricordo bene perché dopo ognuno va per strade, non si sa, sai solo che perderai quasi tutti gli amici. È molto probabile che non vanno alla stessa scuola, Ulisse per esempio forse alla scuola non ci va più perché deve lavorare e quindi stanno tentando disperatamente di trovare qualcosa che li tenga ancora insieme con un gruppo di amici e trovano questo gioco di ruolo perché sono amanti del gioco di ruolo, Ulisse gli era insegnato già dalla seconda media e ogni estate ne inventano uno. Adesso ne stanno inventando uno un po' fuori dal comune in cui invece di avere degli avatar, cioè dei personaggi inventati di una seconda vita da giocare, vorrebbero che fossero loro stessi a giocare il gioco. Quindi è una cosa un po' difficile da pensare e Ulisse gli sta proponendo questo gioco quando, avete sentito, arriva la pietra. Questa che arriva è la prima pietra, poi ce ne saranno altre tre. La pietra li sconvolge al punto tale che sconvolge anche tutto il territorio intorno e quindi si imbarcano in un'avventura di cui non conoscono né la finalità né nel percorso. Sentono solo che questa pietra gli sta dicendo qualcosa, gli sta chiamando a compiere un percorso. Il percorso è trovare altre tre pietre, scoprono che infilandole, mettendoli insieme, si forma un'altra figura e che forse alla fine delle quattro pietre accadrà qualcosa di sconvolgente. Perché ogni volta che trovano una pietra nel territorio intorno, nel lago, scusate, accadono stranezze. Cioè ci sono gorghi, morie di pesci, dislocazioni spazio-temporali, tsunami del lago improvvisi. Quindi ogni volta ogni pietra che trovano genera uno sconvolgimento. Questa pietra genera un'energia spaventosa, ma per certi versi controllata, perché non produce disastri, però produce un campo elettromagnetico smisurato. È quasi come se fosse una fissione nucleare controllata, al punto tale che i servizi segreti, i militari e poi anche le mafie vorrebbero metterci le mani sopra. Quindi comincia una lotta da parte di questi cinque ragazzi per tentare di preservare questa avventura, essendo però, come dire, non sono il signore, non è né Harry Potter né la compagnia dell'Anello. Non sanno perché lo stanno facendo, non hanno coscienza di quello che stanno facendo. Sentono solo che è un'avventura che li sta travolgendo e che però è bello, è bello averla tutti insieme questa avventura, anche se è rischiosa, mortalmente rischiosa. Infatti quando uno di loro, Ago, che di solito è quello che ha sempre paura di non finire i compiti, che non ce la faranno a riagganciare il programma scolastico, io ero così in terza media, non è che di autobiografico. Poi sempre l'altra domanda è ma quanto c'è di autobiografico nei libri che si scrive? Una domanda un po' è come chiedere agli artisti, ma quel quadro, o Pollo che come mai ha dipinto quella cosa? Perché lei per forza c'è dentro la vita dell'artista, la vita dell'artista è fatta di memorie, di infanzia, di adolescenza, di dolori, di ferite, ma anche di gioia. Poi uno quando comincia a creare per forza doveva rubare le cose se non nell'artista. Quindi c'è una parte nel libro sicuramente, il lago è il lago maggiore anche se non viene mai nominato, però io sono nato sul lago maggiore, tutte le estati della mia infanzia andavo lì con mia nonna, stavo due o tre mesi a pescare sul lago, quindi lo conosco in ogni anfratto e quindi anche un omaggio al lago. Poi in terza media appunto eravamo una banda, io ho fatto la terza media a Ostia, vicino Roma, era una scuola che stava alla periferia di Ostia e quindi c'avevamo il mare davanti, vi potete immaginare la voglia di andare a scuola che avevamo, stavamo sempre sulla spiaggia. E quindi alla fine dell'anno avevamo il problema del recupero e quindi ci mettevamo un gruppo di tre o quattro a fare lezioni intense, andavamo a scuola tutti i giorni, stavamo attentissimi ai professori che si meravigliavano di tanta attenzione e alla fine la sfangavamo, insomma riuscivamo sempre a... e quindi questo in parte c'entra anche con... non so perché non so come parlare perché nel senso che se no ho paura di svelarvi troppo l'avventura che segue, è proprio un'avventura, quindi se volete leggere pensate che è un'avventura, non è... è un romanzo di formazione, o perlomeno appartiene a quella forma letteraria con cui si chiamano i romanzi di formazione. La formazione vuol dire una... per me formarsi vuol dire mutare, vuol dire quello che James Hillman chiama la ghianda, cioè ognuno di noi ha una ghianda dentro che potrebbe diventare una quercia. Spesso si arriva alla fine della vita senza aver scoperto qual è. E se incontri invece... se hai degli incontri eccezionali, che sia un mentore, che siano altri amici, che siano... a volte è la lettura di un libro anche, che ti... ti travolge al punto tale che scopri che dentro di te hai qualcosa che non sapevi di avere. Hai una virtù, hai un talento, hai una passione. E questa cosa è meravigliosa quando succede. E a loro succede grazie a questa pietra, grazie a un pezzo di roccia sostanzialmente. Certo, non è facile trovare una pietra così, non sta sugli scaffali dei supermercati sicuramente. Per cui è l'idea comunque che ognuno di noi potrebbe trovarla, potrebbe trovare qualcosa che gli fa comprendere meglio chi è. Non chi è, perché il chi è non lo sapremo mai. Insomma, dentro di noi c'è forse questa scintilla, questa possibilità. A volte la si scopre tardissimo. Io l'ho scoperto da 26 anni, figure. a volte non la scopri. Passa tutta la vita e sai che ce l'hai dentro. Io ho una certezza, per tutto il lavoro che ho fatto con ragazzi, con giovani, con bambini, con portatori di indica, con carcerati, col teatro che ho fatto, l'ho fatto in tutti i posti. Ho sempre pensato, iniziando a lavorare, che ognuno di quegli, di quelle persone che avevo di fronte, attori o non attori, professionisti o non professionisti, avesse una ricchezza gigantesca dentro. Sempre. E che il mio lavoro è quello di tirarla fuori, quello di aiutarlo a tirarla fuori. Quindi è un lavoro di tipo socratico, diciamo. Infatti non appartengo alla categoria dei registi teatrali che sanno tutto dall'inizio, come si deve fare uno spettacolo, che hanno preciso. Una volta quando ho intervistato Lavia per un programma, Gabriele Lavia, io quando entro il primo giorno ho già chiarissimo tutto quello che deve succedere. E io lo guardavo e gli dicevo, beh, non gli dico che io non ho chiaro nulla di quando entro il primo giorno, perché lo costruisco insieme alle persone. Cioè in realtà mi interessano le persone, non mi interessano gli attori. E quindi penso sempre questo. Penso che tutti noi siamo, e i ragazzi soprattutto, hanno una ricchezza dentro enorme. Basterebbe pochissimo per tirarla fuori. Basterebbe stare lì ad ascoltare, dargli un input. E i libri spesso sono questo. Sono la possibilità di volare da un'altra parte, di non essere lì con i piedi nel cemento della periferia, della tua città, della tua casa, della tua stanza. Adesso con la pandemia, forse pure di più, perché è stata una delle poche possibilità, insieme alle serie televisive, di evadere. Evadere è una bellissima parola, che vuol dire uscire dalla prigione, scappare, andare via. Io ricordo a otto anni, io vivevo ad Aciglia, che è una borgata disastrata di Roma. Ancora oggi lo è. Adesso oggi è arrivato a 350.000 abitanti. Quando ero io c'era una manciata. Ho sempre vissuto lì fino alle 15 anni, diciamo ai 13-15 anni. E questa borgata è quella che mi permetteva di conoscere il mondo. Io ho conosciuto il mondo attraverso quello che toccavo e vedevo, come dice Pasolini, noi cresciamo solo grazie agli incontri che abbiamo. Altri ragazzi, gli adulti che incontriamo, il paesaggio che vediamo, la vita di tutti i giorni. Quando ho incontrato Moby Dick in una versione per ragazzi, perché era impossibile che leggessi tutto il Moby Dick, dopo l'ho letto, quello bellissimo, la traduzione di Pavese. Quando ho incontrato Moby Dick, per me quello è stato un cambio di vita, perché improvvisamente pensavo che anch'io potevo andarmene da Aciglia, andarmene via dalla borgata, fare fagotto e partire sull'oceano. Per me l'oceano era ostia, non era grande, era il mare, l'idea del mare, l'idea del viaggio. Vabbè, adesso sto divagando, quindi forse se mi fate delle domande più precise, perché poi incontrano anche degli adulti, non sono solo loro, che si trasformano e mutano. Perché quando dei ragazzi riescono a trascinarti in un percorso, anche gli adulti si trasformano e viceversa. Quando un adulto o un maestro riesce a portare un gruppo di ragazzi verso scoperte, se lo fa veramente, come diceva Mario Lodi, un grande insegnante, maestro, pedagogico, Gianni Rodari, Don Milani, i grandi, quando fai davvero con passione un lavoro di trasmissione del sapere, quello che sai non lo sai neanche cosa scoprirai. Anche il maestro va verso l'ignoto, perché se vai verso qualcosa di già conosciuto non ha molto senso, lo sanno già tutti quella strada lì. Quindi è la scoperta del nuovo, è la scoperta di quello che neanche tu come maestro ti aspetti. E quindi succede sempre che è reciproca, cambia l'allievo ma cambia pure il maestro. E qui succede così, incontrano tre adulti, adesso non vi racconto chi sono gli adulti, sono tre figure molto particolari del mondo adulto e poi si trasformano pure loro. Durante il viaggio scopriranno anche loro che non erano proprio quelli che credevano essere. E quindi è un libro così, che parla di tutto questo. No, parla di tante altre cose, però non vorrei adesso dire troppo. Se mi fate però una domanda di curiosità, io rispondo. Se no vado avanti. Lo so che l'atmosfera non è molto... Non so, che volete sapere? È il primo libro che scrivo? È il primo libro che scrivo? No, come romanzo no. No, no, ne ho scritti altri. No, no, ne ho scritti altri. Appunto il primissimo con la Rizzoli, un bel po' di anni fa, 2004. Si intitolava Nel Regno di Aciglia, che era la storia della mia infanzia. Cinque anni di scuola elementare, di questo postaccio di periferia dove scopriamo cos'è l'amore, il tradimento e uccidiamo un pappone che mandava a battere la sorella di uno di noi. Quindi non è accaduto nella vita. Peccato, avremmo tanto voluto. Quindi non ce l'abbiamo fatta e quindi mi sono ripreso la rivincita scrivendo. Scrivendo quello che come ragazzini non avremmo mai potuto fare. Però mi assicuro che la voglia di farla era tantissima. Quindi ho scritto un romanzo così con molto linguaggio romanesco, non romano. Perché lì Aciglia era un mescolamento di... c'erano Giuliano Dalmati, i romagnoli, i calabresi, i siciliani. Quindi era uscito fuori un pasticcio, un romano sporco, spurio. Ho scritto quello, poi ho scritto l'Occasione, che è un altro romanzo sugli anni 70, sulla catastrofe dell'eroina sostanzialmente. Vabbè, però insomma. Ho scritto i altri. È la prima volta che scrivo un'avventura così... se volete tradizionale, no? Cioè non c'è... è un'avventura. E l'avventura ha questa cosa molto bella che cresce in rapporto a come tu credi che stia crescendo. Cioè in sé hanno trovato quattro sassi. E il come li trovi, però? Chi? Ah, lei vuole chiedere. Prego, che devo mi salutarsi. No, scusi, volevo capire. Questo è un libro soprattutto per ragazzi, per bambini, ragazzi e che cosa insegna a questi ragazzi e anche a noi adulti, insomma. Forse è un libro che si può leggere a tutta l'età. Che cosa ci insegna? Che cosa... E questo è un bel problema perché io quando faccio teatro e quando scrivo non è che mi pongo proprio il problema del... a chi è indirizzato. Nel senso che io ho fatto tanti spettacoli negli anni 70-80 di quello che veniva chiamato teatro ragazzi, che erano spettacoli di fatto poi li abbiamo fatti in serale per adulti, andavano... ed erano perfettamente anche per adulti. Insomma, diciamo che da punto di vista letterario, adesso c'è questa categoria che si chiama Young Edels, Giovani Adulti, che serve a fare le serie televisive tipo Stranger Things o Dark, queste serie che catturano ragazzini dai 9-10 anni fino agli adulti e agli anziani, diciamo. Quindi si colloca l'idea, è molto... parla di altre realtà, quindi c'è un aspetto parascientifico, parla del... parla della fisica quantistica a un certo punto. Quindi lo può leggere benissimo un adulto. Credo che lo possa leggere con altrettanta gioia un ragazzo di 10 anni, 11, 9. Non mi pongo molto questo problema di... cosa insegna questo... è una parolaccia per me. Nel senso che... no, non è una parolaccia, però non voglio insegnare niente, cioè non mi sono mai posto il problema, né quando faccio teatro, né quando scrivo, di... offrire emozioni, questo sì, dare possibilità di identificazione nei personaggi, farli diventare, anche con la scrittura, molto vivi, molto concreti, materiali. Mi piace scrivere facendo sentire quei corpi come sono, come odorano, come sono fatti, proprio anche fisicamente. Poi ognuno può ricavare... sì, si ricavano fornente delle... Quando uno fa un'opera, secondo me, dentro ci sono tanti livelli, tanti... ci sono anche dei misteri che forse sono sconosciuti all'autore stesso, no? Questo è un altro late motive di tutti quelli quando sento sempre le presentazioni, che dicono sempre che non sapevano bene dove andavano i personaggi mentre stavano scrivendo. Io non ci credo molto, credo che lo sapessero benissimo, solo che mentre sapevano quella cosa lì, sotto ne stava accadendo un'altra. Questo sì. Perché mentre crei scopri delle altre cose che stanno sotto e poi dopo, quando il prodotto è finito, ne scopri altre ancora. Per esempio, io leggendo adesso a voi, ho letto in una forma più orale, ho saltato due o tre frasi che se lo dovessi riscrivere non le metterei più, perché la trappola della scrittura è una trappola letteraria. Invece bisognerebbe essere più così, quindi avrei avuto bisogno non di più tempo, perché se hai più tempo e resti sulla scrittura, fai la stessa cosa, cioè lo modifichi, lo trasformi, ma resti... bisognava farlo diventare... avrei dovuto raccontarlo tante volte e poi alla fine usciva un tipo di scrittura diversa. Adesso qui c'ho l'editore davanti, quindi queste cose non si devono dire, ma... però è così, cioè... mi piace sentire l'oralità dentro un racconto scritto. Quindi per avere l'oralità, per esempio, devi togliere gli avverbi, i participi passati, fare tutto azione, azione, azione. Perché è l'azione che determina la vita. Noi scopriamo chi siamo perché facciamo delle cose. Vabbè, però questo è un discorso... quando a un attore gli dicono... faccio un esercizio, no? Tu sei seduto e stai... il vicino... devi entrare dal dentista, hai un molare che ti sta distruggendo la vita, quindi probabilmente te lo toglie. Sei nella stanza con gli altri, ci sono altre tre persone, come ti senti? Allora lui mi risponde... mi sento... faccio tutto nervosamente. Dice... questa è la letteratura. Quel nervosamente è una catastrofe, che non dice nulla. Se voi pensate, gli avverbi sono tutti per la mente, finiscono tutti in mente, perché tolgono tutta la possibilità di esplorazione. Allora gli dico, vabbè, ok, sei nervosamente. Cioè, che fai, concretamente? Allora l'attore deve cominciare a immaginarsi come sta davvero dentro quel posto. ognuno di loro... allora l'essere nervoso sono una serie di azioni che tu fai. Cosa fai? Non lo so, infinite sono le possibilità. Però solo se ti collochi dentro quel corpo, in quel momento, in quello spazio-tempo. E questo è quello che faccio quando scrivo. Cerco di stare con i personaggi in quel posto lì. In quell'ora lì, in quella stagione lì. E cercare di sentire cosa stanno facendo. Poi dopo ci sono i dialoghi, le battute. Però ecco, non mi piace tanto quando sento l'autore che parla al posto dei personaggi. Quello non... non mi piacciono gli autori che ti fanno sentire tutta la filosofia di pensiero che c'è dietro al personaggio. Il personaggio non lo vedi mai. Cioè, lo vedi, ma... È come offuscato da questa materia filosofica cerebrale che sta sopra. Poi, naturalmente, sono scrittori meravigliosi che fanno solo questo. Però, insomma, a me piacciono quelli che... Mi fanno sentire cosa passa dentro la testa di quel personaggio perché gli sta passando nel corpo quella cosa lì. E allora non c'è bisogno di tanti giri. In quel momento sta accadendo quella cosa lì. Il lichet nunc di quel personaggio è in quel momento. Quando ci riesco sono molto contento. Quando scrivendo sento che l'ho catturato, sono molto contento. Quando scrivendo sento che non l'ho catturato, diventa un nodo. Finché cancelli, rifai, cancelli, rifai. Però poi alla fine della pagina, questo è terribile. In teatro posso sempre cambiare, tutti i giorni. Prego. Potrei fare una domanda che però, perché hai detto, mi ha cambiato un po' in corsa. Nel senso che mi veniva da pensare che allora il teatro fosse lo spazio per stare dentro la realtà e invece la scrittura fosse un po' il modo di andare oltre. sia quando parlavi di Ariccia prima sia adesso l'avventura è proprio l'idea di evadere da quella che è l'unità di tempo, di luogo e di spazio un po' appunto del teatro. Invece poi dici che il teatro entra prepotentemente, inteso proprio come lo stare fisicamente in tre dimensioni anche dentro la pagina scritta. Allora non posso non chiederti qual è il rapporto tra le due dimensioni. Che bella domanda. Allora. Allora, le sirene, cioè presente le sirene Ulisse. Ulisse passa e si fa legare. L'unico che si fa legare. Gli altri hanno le orecchie otturate. Le sirene cominciano la rappresentazione. E sono bravissime. Sono delle attrici strepitose. Cantano in un modo al punto tale che ti viene voglia di vivere con loro per tutta la vita. Ma l'unico che sente questa passione è Ulisse. L'unico che si fa travolgere dalla passione delle sirene. Quindi in quel momento Ulisse è legato al palo ma sta altrove. Gli spettatori a teatro sono Ulisse legati alle sedie. Questo è. Il problema è che devi trovare delle grandi sirene sul palco. Il più delle volte è la noia mortale. Per cui se la noia non ti accorgi neanche che sei legato perché il tuo corpo non sta facendo niente. Però anche in teatro voli. Te ne vai solo nella misura in cui empatizzi con i tuoi neuroni specchio con gli attori che stanno sul palco. E questa è la capacità degli attori però di darti questa possibilità. Quando succede questo c'è una fusione tale che è una vera e propria trance. Però succede veramente raramente. Questo non vuol dire... Questo dice allora al teatro non ci vai mai. No, bisogna andare 15 volte a teatro per trovarne uno così. Un tesoro così. Anche due va. Quindi nella scrittura il lavoro lo fa totalmente solo il lettore. Cioè lo scrittore ha immaginato tutto e spera di essere una sirena narrante per il lettore. Il lettore sta da solo. Quindi al teatro sei con gli altri. Vabbè adesso teatri distanziati infatti. Ma speriamo bene. Ci credo poco che si... Però in teatro sei vicino. E c'è un'energia che accade. Perché hai anche i corpi degli altri intorno. Non sei mai da solo in teatro. Non solo. In teatro ti puoi distrarre. Cioè non è detto che c'è il punto di vista... Cioè l'attore principale sta facendo un monologo. Ma a destra gli altri tre stanno facendo un'altra cosa. Oppure a un certo punto stai guardando le luci. Tutto è possibile. Perché hai un occhio che se ne va da tutte le parti. È un udito. Con tutti i sensi allerta. E allertati se appunto le sirene sono brave in scena. E quindi è per questo impossibile metterle in uno schermo. Tra l'altro. Cioè il teatro strimica è un non senso. È proprio un non senso. Non si può. Perché non sei libero. Perché la camera sceglie cosa vedere e annulla quello che non vede. Per cui... E poi soprattutto l'occhio è quello del regista. Non è il tuo. Quando stai leggendo tu non hai gli altri intorno. Sei da solo. E spesso dove sei? Sei a letto prima di dormire? Sei sul treno? Cioè sono tanti i posti dove uno si isola leggendo. Se lo scrittore è stato così bravo da annullare improvvisamente tutto lo spazio-tempo che il lettore ha intorno. In quel momento stai facendo un percorso. Stai volando anche tu. Stai volando con Margherita fuori dalla finestra del maestro Margherita. Mentre si trasforma in strega volante. Questo non accade per tutto il libro. È impossibile. Ci sono dei momenti dentro anche un grande romanzo in cui hai la possibilità di empatizzare non con l'autore, che l'autore non c'è. Di empatizzare col personaggio o i personaggi che l'autore è riuscito a farti rendere così vivi, che è come se fossero su un palcoscenico in quel momento. Questo è quello che, perlomeno a me succede così quando leggo dei grandi autori che a me piacciono molto e che mi permettono questa trasposizione. È proprio un trasferimento spazio-temporale, qualcosa di fantascientifico quasi. Quello che avviene quando ti trovi davanti a un libro che ti fa volare. Spero che questo vi faccia volare, però bisogna vedere. Poi ognuno reagisce in modi diversi. Non siamo tutti uguali, per fortuna. E quindi... Però la domanda era molto bella. Grazie. Ancora, ci sono altre... No. Sì. Posso fare io una domanda? Oh. Allora, pensavo... Anche a me succede ovviamente quando leggo un libro che vengo trasportata e mi dimentico chi sono, che ore sono, dove sono, cosa sta succedendo. E allora volevo chiederle chi sono, secondo lei, questi autori che ancora, magari autori classici anche, che noi ci vengono propinati a scuola, penso a noi più giovani, non ci piacciono solo perché ci sono stati imposti. Però poi, se li leggessimo, ci trasporterebbero veramente in questo spazio in cui siamo da soli con il libro. Anche in ottica di quanto è difficile oggi, secondo me, proporre, cioè vedendo anche che cosa viene proposto ai giovani, quindi tutta questa categoria young adult, tutte queste storie. Quali sono questi autori che, secondo lei, possono aiutarci a trasportarci e che possono essere delle proposte belle, sia per i giovani che anche per gli adulti, ovviamente? Siamo qui due giorni a tentare di... Ma io anni fa ho messo in scena l'Orlando Furioso, con Stefano Accorsi in scena, eravamo in due, e l'ho riscritto un po', cioè l'ho fatto di... Sì, l'ho riscritto, l'ho riscritto, ma tutti quelli che sono venuti a vederlo, uscendo, diciamo, non pensavo che l'Ariosto fosse così interessante. Infatti dopo ci sono stati insegnanti, ragazzi che hanno ripreso a leggerlo. L'Orlando Furioso, per esempio, è un libro eccezionale da questo punto di vista, è strepitoso, ma anche l'Iliade, l'Odissea... Non tutto, cioè non è possibile, cioè quando nell'Odissea comincia l'elenco delle genealogie ti addormenti, perché è un mondo che non ci appartiene più. Oggi nessuno chiede a chi appartieni, si chiede solo in Sicilia per sapere a quale clan appartieni, a chi appartieni. Però a quel tempo era così. Sarebbe bello, no? Quando incontri una persona nuova, dicendo, da dove vieni? E allora ve lo cominciò a fare. La dynasty familiare fino a... Ma fino a dove arriviamo? Arriviamo ai bisnonni. Qualcuno di voi forse arriva ai trisnonni. Di sapere esattamente... Peccato, abbiamo perso questa idea che non siamo qui nel puro presente, ma che siamo qui per una serie di avi che prima di noi hanno fatto questo, questo, questo e questo. Nell'antichità questo era tutto più chiaro, quindi quando leggi quelle cose... Però sono noiose, poi le leggi e ti annoia. Quando Ulisse comincia a fare l'elenco di tutte le... il passato ti annoia. Però ecco, quelli sono grandi libri. Il problema non è tanto che sono stati imposti a scuola, che sono stati imposti male. Cioè, sono stati imposti ma, letti male. Senza passione, come una cosa che si doveva fare. E allora non li ami, la Divina Commedia, Manzoni, in capolavoro. Però a scuola era una noia, era una cosa terribile. Io avevo un professore che veramente ti addormentavi mentre la leggeva. Era terribile. Non c'aveva un minimo di vigore nel leggere. Quindi il problema dei grandi classici è la possibilità di riviverli in una forma contemporanea. Che non vuol dire attualizzarli. Non vuol dire far diventare, ne so, l'Ariosto, cioè Astolfo lo trasformi, ne so, in viaggia. Invece che sull'Ippogrifo, su un jet di Elon Musk, questo che muova sulla Luna. No, non è questa. Devi stare attaccato a quello che è. Però c'è la possibilità di farli rinascere e rivivere in una forma eccezionale. Allora, se vuoi sapere i miei, il mio giardino, diciamo, il giardino dove ho le persone che amo, che sono autori, però anche musicisti, anche artisti visivi, e anche persone normali che ho conosciuto nella vita. Diciamo, gli ultimi arrivati, vabbè, Norman McCarthy. McCarthy sì, un grande. Tutti. Tutti e soprattutto Sattri, il libro forse più diverso da tutti gli altri che ha scritto. Eccezionale, una sorta di Tom Sawyer, una sorta di Huckleberry Finn, acido, terribile, di uno che vive solo su una barca, sul fiume, e pesca solo pesci gatto. Ma, geniale. Il libro è scritto veramente che sembra che stai lì. Non mette neanche le virgolette per fare i dialoghi. Ormai molti fanno così. Mi piace, perché non capisci mai chi sta parlando, se stanno parlando. Fa una bella confusione in testa. Questo è l'ultimo colletto a Pereigon di Mac Corman, credo come si chiama lui. Mac Norm, è un altro Mac. Eh, sì, lui, bellissimo. Ho trovato una forma di scrittura che apre improvvisamente. Lui, poi... No, vabbè, ma sono tantissimi. Vabbè, tutto Camus. Camus, io continuo a rileggerlo. Melville, Conrad, i grandi. Tutti quelli che... Non mi hanno solo maschi, no? Flannery O'Connor, un'altra grande per me. Bellissimo. Questi racconti sono... È strano. O Folkmer, ecco, un altro grandissimo. Ma perché? Abitano tutti nella zona sud degli Stati Uniti. Questi che piacciono a me. Che poi sono i fratelli Cohen con Fargo. È un po' quella dimensione lì. Cioè, dei postacci. Veramente brutti. Ah, un'altra bravissima, James Milvard, che è Salvare le ossa. Che è un'altra che vive nella zona Franco, che una volta era francofono del Mississippi. Cioè, queste zone umide, malsane, malariche. E spesso sono autori... Per esempio, la Conrad era una fondamentalista cristiana. Insomma, molto... No, cristiana, cattolica. Molto... Che però riescono a farti sentire la presenza del male come qualcosa di reale. Questo non è un paese per vecchi. Ci avete presente? Il personaggio del cattivo, pure nel primo Fargo, quello che compie tutti i crimini. Cioè, non ha nessuna... Come dire? Da noi, invece, c'è sempre, ancora, lo strascico della lettura marziana o comunque un po' di sinistra. Diciamo che il male viene perché c'è un problema prima. Il serial killer è perché ha la mamma che da piccolo lo trascinava. C'è sempre un tentativo di spiegare il male con una deviazione psicologica data da Freud, sostanzialmente. È vero che probabilmente uno diventa così perché ci ha avuto... Ecco, però in questi autori invece il male è assoluto. Cioè, fra Nero e Cono, quello arriva e gli brucia la fattoria. Non ha nessun altro... Si diverte? Neanche. Cioè, è così. Quando... Lui, l'attore, bravissimo, come si chiama? Il marito della Penelope Cruz. Vabbè, l'avete capito. Xavier Bardem. Quando entra nella... Cioè, avete presente quella scena? Entra nella ferramenta e chiede qualcosa che gli serve. E quello gli dice quanto vuole, quanto... E lui gli dice tutto. E quello si fiene e dice come tutto? Allora tira la moneta. E quello sa dall'altra parte che ha di fronte un diavolo, un demonio. Se la moneta cade in un modo, dice cosa ha ottenuto? E lui gli risponde tutto. Gli è andata bene? Perché la moneta è scesa a testa. Se scendeva a croce lo ammazzava. Ma non c'era nessun scopo di ammazzarlo. Non aveva un problema. Ecco, io trovo che quando un autore riesce a farti sentire così tanto la presenza del dolore, del male e quindi però anche della rivolta, della capacità di ribellare, è una grande... è una grande scrittura quella lì. probabilmente devi avere... Falkner per esempio pure ci riusciva. Erano bellissimi personaggi. Falkner per esempio non è vero che... è vero che c'aveva anche molti pensieri, diciamo. Però quando l'autore pensava lo metteva in corsivo. Almeno come dire, sapevi che era lui che stava pensando, non era il personaggio. E' una forma di scrittura anche quella come dire, vedete, adesso il personaggio fa questo, questo e questo. adesso io vi dico cosa c'è dentro, dietro. Ho citato sempre americani, però insomma poi ci sono anche pavese, l'ho sempre amato tanto. Calvino tanti anni fa l'ho amato, adesso non sta più nel mio giardino, troppo intellettuale. Un po' troppo freddo, mi piacciono più quelli caldi. Alcuni di Erri De Luca, i primi, Monte di Dio, mi piace molto. Vabbè, facciamo l'elenco degli amici viventi e non viventi di personaggi, però quando incontri questi libri incontri altro, incontri la vita, incontri l'altro, le stranità. Ecco, non mi è mai capitato fino a leggere racconti scritti da occidentali che mi riuscissero a far sentire l'altro altro, cioè l'immigrato, lo straniero, quello che arriva da fuori, sono tutti un po' ammantati di civiltà, come dire, è tutto uno scrivere che adesso c'è in cui ci facciamo carico dell'alterità, ma senza mai entrare in contraddizione. perché nessuno ha scritto un bel romanzo su uno scafista? Quello è bello, sarebbe da scherzo. Cosa passa nella testa di un ragazzo che gli dicono il giorno prima porta questi disperati su sto barcone, ti diamo questi soldi, lui va, non sa neanche dove deve andare, sa solo che deve mollare a un certo punto in mare perché arriva qualcuno che prende lui. Sarebbe più interessante che fare... cioè io penso sempre che l'artista deve riuscire a mettere il dito dove fa più male. Cioè quando andiamo a teatro noi facciamo teatro io faccio teatro per le stesse persone che di solito leggo i miei libri, cioè le persone che sono qui sono abbastanza eccezionali rispetto alla realtà della vita. Quindi è un pubblico molto elitario. Se io gli racconto cose e loro già si aspettano di sentire a che serve? Sono loro quelli che hanno il diritto di spaventarsi di più, di inquietarsi di più perché hanno la struttura per sopportarla questa cosa, se no che sono venuti a fare a teatro. Cioè che viaggio faccio se le sirene non mi incantano? Già so che tanto non c'è bisogno neanche che mi lego perché questo è allora questo cioè Curzio Malaparte quando scrive la pelle è cattivo. è cattivo però ti fa vedere risvolti di poi un fascistone insomma era uno di destra totale ma anche se lì cioè viaggio al termine della notte è strepitoso eppure era un antisemita e qui si pone il problema allora no? L'autore deve coincidere con le parole che scrive e con il romanzo che scrive Ezra Pound non lo leggiamo più perché Casa Pound sono un branco di fascistoidi che c'entra Ezra Pound ha scritto delle poesie meravigliose che contraddizione questa questa è una grande contraddizione però perché forse forse al fondo c'è che non è vero che la cultura salva il mondo io non penso che sia così è un po' un'illusione che la cultura salva il mondo c'erano nazisti che conoscevano a memoria tutte le opere di Wagner a memoria cioè che piaceva la musica sinfonica cioè non è così immediato il fatto che hai più possibilità forse di vedere le contraddizioni che ci sono nel mondo più 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 leggi più ascolti più vedi più ti rendi conto della tua fragilità della tua delle tue insicurezze forse a questo serve io penso soltanto l'arte serve a fare in modo di rendere il mondo meno terribile questa è la sua funzione non salva il mondo non salva il mondo né ti dà le soluzioni per salvarlo questa è un po' un'illusione molti scrittori quando li sento parlare delle loro opere pensano che stanno salvando il mondo io penso di no il mondo se si salva si salva per altri versi poi adesso vedremo come salvarlo questo pianeta qui c'è anche dentro nel romanzo c'è anche un aspetto di quella parola brutta che si chiama ecologia che non si capisce molto cosa voglia dire però diciamo a un certo punto si parla le quattro pietre dicono anche cosa sta succedendo tra il mondo sano e il mondo malato perché non c'è un solo mondo questo è il tema di fondo dell'opera e anche un po' della mia visione della vita anche quello che faccio cioè adesso qui non ci siamo solo noi ecco qui non ci siamo solo noi qui c'è c'erano i boschi che c'erano soltanto 700 800 anni fa quindi ci sono i nostri avi qua dentro di noi c'è un tempo passato insomma non c'è una sola realtà non c'è uno spazio tempo unico ce ne sono tanti vicini sepolti sotto sopra tutta l'Europa è un ossario gigantesco tutti morti sotto ovunque calpestiamo ci sono dei morti sotto e quindi c'è un c'è un presente di questo passato che è sempre lì che sta sempre quindi penso sempre che appunto ci sono piani di realtà diverse a volte poi giocando di fantasia diciamo uno può immaginarsi che entra improvvisamente in queste altre realtà scopre per un momento che c'è un altro spazio tempo che gli serve per tornare poi nel suo grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti